Lavoro da Piterbi, la carrozzeria che io andavo a Zanardi lì che andavano la roba, la macchina con la coda, c'è il badone che arriva Vamo! Vole Mario! Volevo, non c'è fede! Ragazzi, ma chi è qui? Chi è? Mario! Ma chi è Mario? Mario, mio amico, in tant'anni, mai lì, mai in scuola, mai in giro Che amico, ragazzi! Ehi, Mario, vieni qua! Ti va al bar? Io sono da qua per me, mio amico Mario! Ehi, chi è qui? Mario! Ma chi è Mario? I miei amici, in tant'anni, mai lì, mai lì, mai in scuola, mai in giro Dio, buono! Tanto arriva a casa Vedi che ho tenuto la maniera La maniera che è mia Qui da me Mario, da là Maria! Chi è? Chi è? Mario, chi è Mario? Mario, i miei amici, in tant'anni, mai in giro, mai in scuola, mai in giro Che amico! Dio, buono! La maniera Lui andavamo a volare perché era andato al Cosmocrof Era Cosmocrof Stasera di gara Che stava via 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 Perchè dopo io andavo tutta la stanza Perchè sennò a via No, no, no Testa sera c'è qua Testa maniera che mi è Poi dovrò qua Opa Maria E Giorgio Giorgio Giorgio? Sì Ma c'è un letto C'è un solde No, no, Mario! Non è un letto un letto Mario, non mi è che tant'anni Ma non c'è Ma non c'è E lui, Mario Stenderebbe Pia, buono Mario Che amico Che ha Si intanto mai Non è lì Mai un tetto Ma non c'è Ma cosa c'è Giorgio a fare Dio, veramente A me non è messo in dal culo A te? Ma a me intanto mai Non è lì Ma è lì Ma è lì Ma è lì Ma è lì Grazie a tutti.